La vita che siamo chiamati a promuovere e a difendere non è un concetto astratto, ma si manifesta sempre in una persona in carne e ossa. Un bambino appena concepito, un povero e marginato, un malato solo e scoraggiato, ogni vita umana è unica e irripetibile, costituisce un valore inestivabile. Questo va annunciato sempre nuovamente col coraggio della parola e il coraggio delle azioni. Rispetta, difendi, ama e servi la vita, ogni vita, ogni vita umana. Solo su questa strada troverai giustizia, sviluppo, libertà, pace e felicità.